Ah 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 Sì eh Chi sei tu presentati Io sono Pic Tergo, l'ho detto anche i piccoli cinesi fanno foto Chi sei? Cosa fai nella Mid Country? Cosa fai? Io sono un talent scout, nonché promoter Vi posso trovare qualsiasi cosa Noi nuovi talenti, nuovi futuri Ah quello che te l'ha regalato Ah, il mio compagno di classe mamma Prende questo cazzo di giocattolo si siedono nel tavolo e gli dice Lo sai chi è che fa la magia Gesù o Satana e il bambino risponde Sotano e la magia quindi è bene o male? male ogni cartone psicologico cartone lezioni di Geova amici lele a chi piace la magia? a Geova o a Sat Satano giusto? ma lo fanno proprio i testimoni di Geova questi qua sono lezione 2 cosa? queste qua sono le puntate dei testimoni di Geova guardate il mantello logico di Orion ma che gioco è questo? è Orion il nuovo guerriero a base ci fanno tutto cosa e quando a base ci fanno tutto cosa e quando a base ci fanno pure i cassa Naso Giuseppe Migliore il grande artista della MidCountry grazie a giustificare della Novi School Allora dove lo appendiamo questo quadro che hai appena portato questo è fatto da l'artista Fabrizio Kurtis grazie dai figlio migliore del mondo nooo stavo pensando di attaccarlo qua ah non ci sono mai fuori grazie ma non funziona wow io qua mi immaginavo proprio con i quadri cioè proprio con i quadri o tutti gli artisti o quadri che ne so tipo così e allora iniziamo così in Italia di brutto perfetto di brutto ci stilette nella corredoria MilCountry eh il suo disegno MilCountry MilCountry eh disegno intero yeah si ci sta lo metteremo così ok ammattalo ammattalo oh moto pulizie wow che bello questo controluce sulle lani a terre wow cazzo fighissimo Visto che venerdì abbiamo l'intervista con Massimo Pitao Stiamo adesso organizzando un po' con il mitico Alessandro Che sei sempre in questa postazione Si sta qua Il pensatoio Si questo è il pensatoio Quindi adesso prepareremo una mini scaletta per farci un'idea di quello di cui parlare un po' Come pubblicità, shooting E' una cosa che fate anche voi Tante siete molto simili, vi potete inquadrare da quel punto di vista Invece noi vorremmo creare proprio una sorta di blog neanche Abbiamo finito la scaletta, eccola qua Bravissimo Ale la manderà al computer No Visto come hai detto tu che ci siamo già Prepariamo già il set per l'intervista di Massimo Abbiamo preparato la scaletta e adesso prepareremo il set Mettiamo le due poltrone, spostiamo il tavolino qui indietro E sul tavolo mettiamo i miei dischi in vinile Vuole fare lo scenografo Ci mi ha dato una mattina fotografica Esatto O degli obiettivi Intanto ne abbiamo una fissa di movimento Sì Sono qui con Massimo Pittau Videomaker Studiate una presentazione Un attimo Commetto che ti sei venuto aiuto per Da Vinci Certo E voglio eliminare questa parte di me Ah Sicuramente Siamo pronti Stefano Partire Pronto Ivanetto Dei buscini Un tappetino Su cui sdraiali nel sardone Mi sa non hai capito il buscraft di lui Una macchetta si può fare Una macchetta Stufetta Polli La cosa più bella del buscraft è andare Svegliarsi la mattina e cagare in mezzo all'affare Bene Allora visto che gli altri mi hanno perfettamente lasciato fuori dallo studio Sono qua Da solo Senza Poter fare niente E perciò ne approfitterò in questo momento Per Fare una piccola recensione Sul Samyang Il bellissimo Samyang Cine 14 mm Tac Questo obiettivo Secondo me È davvero bello Perché Oltre al fatto che Prima di tutto È Cine E quindi Ha le ghiere fluide Sia del diaframmi Ovviamente del fuoco E sono morbidissime E oltre a questo È F2.8 T3.1 Eccolo qua E poi ha questa bellissima lente Convessa Che è proprio per questo Infatti che non si può mettere il filtro Perché sennò Toccherebbe Ed è per questo anche che Hanno messo il paraluce Fisso Perciò io ho messo questo accrocchio qua Che adesso vabbè È uno schifo Però Molto semplicemente Sopra si potrebbe mettere il filtro In questo modo Praticamente Con Attaccato a scotch Perché a noi piace l'artigianato È proprio Compatto Cioè si vede che non è Un plasticone Vediamo se sente il rumore Non è plastica È questa la cosa bella Quindi di questo Magnifico obiettivo Quindi di questo Magnifico obiettivo Questo qua Adesso Faremo vedere Qualche prova Di qualche ripresa Che abbiamo fatto da qualche parte Così Potete capire Effettivamente Bene Che bomba è Gianmarco di sua spontanea volontà In realtà non è vero L'ho costretto Figata La stappella Credeva peggio Perfetto Buono Sortino Spostalo leggermente di l'alto Puoi toccare Sposta dritto Testiamone Primo quadro Appeso Scusami In mid country Partito momento bricolore Voglio mettere il robo C'ha anche già il giancetto Quindi non apprendi il faccio Hai visto Esatto Il concetto deve essere quello Piano piano Sta reggendo Abbiamo cambiato tutto Sì Esatto Questo è il concetto E' Grazie a tutti.